Una legge dedicata alle celebrazioni per Puccini, presentato a Lucca un disegno di legge del senatore Andrea Marcucci e del presidente della Commissione Cultura in Senato, Riccardo Nencini. Ecco la nuova sede della Misericordia, la storica Arci Confraterne Italucchese è pronta a lasciare la sede in Piazza San Salvatore per l'ex Banco di Napoli fuori Porta Sant'Anna. La Banda dei Carabinieri seduce il teatro di Torre del Lago, applausi ed emozioni per il concerto della Banda Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, ospitato al Gran Teatro all'Aperto. Serata di Pugni in Riva al Mare, riunione sabato al Palabarsacchi con gli atleti della pugilistica lucchese e della box stiava, match clou tra Marvin De Mollari e il temibile croato Poturovic. Ben trovati a questa nostra edizione del TG Noi, lo avete sentito anche dai nostri titoli, in primo piano il disegno di legge dedicato alle celebrazioni per Puccini. Sentiamo Giulio Del Fiorentino. Un disegno di legge, affirma Andrea Marcucci e Riccardo Nencini, con le disposizioni per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini. In vista della Commissione Cultura del Senato, hanno depositato gli atti necessari ad iniziare un iter che, qualora il disegno trovasse la convergenza e le firme di tutte le forze politiche, potrebbe portare ad un'approvazione del governo già prima dell'autunno. Il ridotto del Teatro del Giglio, con la presenza dei sindaci di Lucca, Viareggio e Pescaglia e del presidente della provincia, ha ospitato la presentazione alla stampa di un disegno che, come spiegato da Andrea Marcucci, coinvolgerà i territori e gli enti pucciniani della provincia, con l'intento di celebrare il grande compositore, ma anche e soprattutto di promuovere e invece di legare sempre di più il nome di Lucca a Puccini. L'Italia non può che celebrare Giacomo Puccini. Il 24 sarà il suo anno e noi bisogna essere pronti e per questo che insieme al presidente Nelcini abbiamo presentato questo disegno di legge che è importante per il territorio lucchese, per quello toscano, per l'Italia tutta e io credo per la musica e la cultura del mondo. 11 milioni di euro nel complesso per celebrare i cento anni dalla morte del compositore più noto al mondo. Un'occasione imperdibile non solo per Lucca, ma anche per la Toscana e più in generale per l'Italia. Voglio vedere chi dice no a Puccini. Mi sembra molto più facile dire sì a Puccini perché è il re del melodramma, perché ancora oggi le sue opere sono straconosciute e non hanno mai subito nessuna sosta nelle rappresentazioni mondo. Sì, voglio vedere proprio chi dice io non lo firmo. A livello locale servirà un impegno comune per creare le scene conosciute a livello mondiale e il territorio. Sì, un'occasione importante per tutto il territorio lucchese ricco di riferimenti pucciniani e questa diventa l'occasione col centenario del 2024, l'occasione per far sì che il binomio Lucca e Puccini sia portato a sistema a livello internazionale. Gli aggiornamenti riguardo alle nuove positività al Covid-19 sono sostanzialmente stabili. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore nella nostra regione ammontano infatti a 720 i nuovi positivi. L'età media è di 31 anni. Il tasso di positività è al 5,3%, ieri era al 5,5%. I pazienti ricoverati nei posti letto Covid sono 141, 16 in più rispetto a ieri. Quelli in terapia intensiva 14, 1 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso, mentre i nuovi casi nella nostra provincia di Lucca sono 111, 4 in più rispetto a ieri. Va segnalato che è stato anche sfondato nelle ultime 24 ore il tetto di 4 milioni di vaccini somministrati. Andiamo a Lucca. La storica confraternita della misericordia è pronta a lasciare la storica sede in piazza San Salvatore per trasferirsi al di fuori delle mura. La storica arci confraternita di misericordia di Lucca è pronta a lasciare la sede in piazza San Salvatore per trasferirsi nell'immediata periferia, fuori porta Sant'Anna. Presente dal lontano 1818, nei locali siti in via Cesare Battisti 2, l'associazione di volontariato ha recentemente acquisito per 900 mila euro l'immobile dell'ex Banco di Napoli, dove avrà a disposizione oltre 1.400 metri quadri di superficie per gestire e ospitare i mezzi per il sistema trasporti di emergenza in collegamento con la centrale operativa del 118 e non solo. Trasporto ordinario e sociale. Ci sarà una bella sala convegni e congressi che verrà utilizzata dai volontari anche per fare corsi di formazione che verranno fatti di continuo. Poi ci sarà un'area detta area medica che è destinata a un ambulatorio infermeristico, anzi a tre ambulatori infermeristiche che saranno aperti almeno 18 ore al giorno per un ambulatorio infermeristico solidale, cioè offerta libera del cittadino, dopo la prestazione offerta dal professionista. Il trasferimento consentirà alla misericordia di risolvere alcune problematiche legate alla presenza in centro storico, come la gestione di ben 20 mezzi di soccorso nella piazza dove trovano spazio anche i tavolini esterni di diversi locali, la scarsa disponibilità di posteggi per i dipendenti, oltre al costante rischio per i pedoni in caso di chiamate di emergenza. La vecchia sede non verrà però chiusa, continuerà ad essere un punto di riferimento, offrendo i propri spazi per nuove attività a carattere sociale. Noi riattiveremo l'archivio storico, che ricordo parte dal 1540, e un'area museale, oltre poi alla ricostituzione dell'albergo del Pellegrino che avevamo già e un dormitorio pubblico. Un'operazione complessiva da circa 2 milioni di euro che i confratelli contano di completare entro giugno 2022. Finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo proposti, grazie ai benefattori. L'ex Assessore Celestino Marchini ha presentato Impegno Civico per Lucca, un nuovo movimento civico in vista delle prossime elezioni amministrative. L'ex Assessore Celestino Marchini presenta Impegno Civico per Lucca, un nuovo movimento civico in vista delle prossime elezioni amministrative. Non un partito, molte idee e tanta passione, recita il manifesto dell'Associazione, che raccoglie altri 13 firmatari che si definiscono liberal-progressisti democratici. Un gruppo trasversale, non condizionato politicamente, che al momento è al lavoro per avanzare nuove idee proposte per la città, cercando occasioni di incontro e partecipazione con tutti i cittadini. Anche l'idea del movimento, racconta Marchini, è nata grazie ai messaggi di stima e affetto ricevuti, che lo hanno convinto, dice, a non restare a casa a fare il pensionato. Noi abbiamo più che altro idee di presentare idee, progetti, e creare una scuola di politica, di cultura politica, che è quello che manca a Lucca e molto probabilmente anche dappertutto in Italia, perché è il momento in cui molti partiti stanno sparendo, di fatto le liste civiche stanno prendendo un po' il sopravvento e quindi tentiamo di fare un qualcosa per far sì che con idee nuove si possa migliorare la nostra città. Per tutto il settore della cultura, del turismo, anche delle infrastrutture da migliorare, cioè noi col tempo produrremo delle idee, oggi presenteremo un po' in linea di massima ciò che vogliamo fare e ciò che vogliamo proporre alla città, poi nei prossimi mesi daremo proprio delle idee concrete, settore per settore. L'ex assessore, silurato per non aver preso parte alla seduta sul project financing del progetto COIMA, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per la manifattura, per il momento non si sbilancia, promette impegno contro il becero populismo attuale, dice che il suo gruppo si manterrà nell'area moderata e non annuncia schieramenti al fianco degli attuali candidati, preferendo prendere tempo per ascoltare tutte le idee. Criticità sia per carenza di personale sia sulla struttura alla RSA di Monte Sanquirico, lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia di Lucca, Marco Martinelli, presidente del gruppo consigliare, e Simona Testaferrata, consigliere, che hanno svolto un sopralluogo nella struttura appunto di Monte Sanquirico. In vista del 30 novembre 2021, aggiungono i consiglieri, quando scadrà l'attuale concessione delle strutture, sarà necessario aprire un serio confronto con l'amministrazione comunale di Lucca e soprattutto con la Regione Toscana, affinché modifichi gli attuali parametri previsti in merito ai requisiti per il funzionamento delle strutture residenziali. Nella struttura, denunciano gli esponenti di Fratelli d'Italia, il personale è ridotto all'osso. Per 56 ospiti non autosufficienti, solo due infermieri la mattina, uno il pomeriggio e una la sera. E cambiamo pagina, l'unione sindacale di base in presidio di fronte al Teatro del Giglio di Lucca per rappresentare i problemi dei lavoratori dello spettacolo. Giulio del Fiorentino. Questa mattina davanti al Teatro del Giglio, in occasione della presentazione del disegno di legge su Puccini, è stata l'occasione per i rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo per interloquire con i senatori Andrea Marcucci e Riccardo Nencini per cercare di sensibilizzare una volta di più, lo abbiamo fatto tanto in questi mesi, il problema di queste persone che legate al lavoro, con il loro lavoro legato al mondo dello spettacolo, sono rimasti fermi e tuttora stentano a ripartire. Quali prospettive vi hanno dato? Noi siamo qui come coro-orchestra dei lavoratori del Festival Pucciniano perché vogliamo tornare a lavorare nei nostri teatri. Cioè noi siamo un coro, un'orchestra che derivano da coro-orchestra cittadierica di vent'anni fa, siamo stati tutti rinnovati con nuove audizioni, siamo stati implementati, siamo un coro-orchestra fortissima. Non vedo perché dobbiamo lavorare solo al Festival Pucciniano, per cui il nostro progetto è quello di avere un coro, un'orchestra che lavora su quattro teatri, ovvero Pisa, Livorno, Lucca e Torre del Lago. Finalmente tutti uniti, finalmente si torna a casa. Entra in Consiglio Provinciale Melania Ferrari, su surroga del consigliere Mirko Masini, la cui nomina è decaduta nel momento delle dimissioni dal Consiglio Comunale di Massarosa. Melania Ferrari, classe 89, da sempre molto impegnata nel sociale, è consigliera comunale del Comune di Molazzana, dove si è presentata per la lista di centrodestra Prima Molazzana, che l'ha vista ottenere una forte affermazione personale, diventando la candidata più votata dell'attuale minoranza. Cambiamo pagina, torna in scena sabato, la bohème di Ettore Scola sarà trasmessa in diretta anche sulla nostra rete. Massimo Mazzolini. La serata inaugurale della stagione 2021 con Tosca per la regia di Stefania Sandrelli al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, trasmessa in diretta venerdì scorso dalla nostra emittente Noi TV, ha avuto ascolti altissimi a dimostrazione che la grande musica appassiona sempre di più sia i giovani che i meno giovani. Sabato 31, nel Gran Teatro in Riva al Massaciuccoli, va in scena la terza opera pucciniana, Bohème, con la regia del compianto Ettore Scola, una delle opere più amate dal pubblico che ha sempre richiamato spettatori da tutto il mondo. Per venire incontro alle esigenze di tanti appassionati della lirica, costretti nelle proprie abitazioni a causa delle restrizioni anti-Covid, Noi TV, in accordo con la Fondazione Festival Pucciniano, ha predisposto nel proprio palinzesto la trasmissione in diretta anche della Bohème, con inizio alle 21.15, compresa la diretta sul maxischermo nel giardino di Villa Paolina Viareggio. La Bohème è melodrama composto da scene liriche in quattro quadri sul libretto di Illica e Giacosa, con musica del grande maestro torrellaghese d'adozione. Allestimento di Ettore Scola, e regia affidata a Marco Scola di Mambro, nipote del grande regista che già nel 2014, in veste di assistente, ideò con suo nonno la regia dello spettacolo. L'opera racconta la struggente storia d'amore tra Mimì e Rodolfo, interpretati da Polina Paz Tilsack e Ivan Aion Drivas. Dirige l'orchestra del Festival Puccini, il maestro calesso, scene di Luciano Ricceri. E sempre a Torre del Lago, grande successo per il concerto eseguito dalla Banda dei Carabinieri. Alla fine, rompendo i canoni protocollari, il pubblico del Gran Teatro Puccini di Torre del Lago è andato a complimentarsi con la Presidente della Fondazione Festival Lirico e con le autorità civili e militari presenti. Il bellissimo concerto della Banda dell'Arba dei Carabinieri, oltre 100 musicisti, diretta dal maestro Massimiliano Ciaffrei, giovedì sera ha regalato emozioni a non finire in Riva al Massaciuccoli. Musiche di rilevante spessore artistico per la banda conosciuta ovunque, in Italia e nel mondo, per la grande valenza dei suoi orchestrali, per la varietà del loro repertorio, per il fascino delle splendide uniformi e per la loro compostezza. Dopo la marcia d'ordinanza che ha aperto il concerto, musiche di Wagner, Puccini, Verdi e Ponchielli per concludere con il nostro inno nazionale. Stasera, come ha scritto un giornale, Puccini incontra l'arma, che non era qua da innumerevoli anni, per cui per noi è un grandissimo onore, è l'ennesimo evento fuori programma che arricchisce la nostra collana di perle splendide di opere pucciniane. Ma all'essere qui anche quest'anno ci dà un'immensa soddisfazione. Per Torre del Lago e la fondazione del Festival, l'evento di giovedì sera è stato l'ennesimo biglietto da visita per promuovere la vocazione che la terra versiliese ha verso la grande musica. In Valle del Serchio, grande successo per il cartellone del Il Serchio delle Muse. Luca Galeotti In Valle del Serchio proseguono con successo le serate del Festival Il Serchio delle Muse, particolarmente suggestiva l'ambientazione della serata di giovedì 29 luglio, che si è tenuta sulle sponde del lago di Ponte Cosi, con un concerto dedicato a Piazzolla nella prima parte e alle aree pucciniane nella seconda. Tra i due atti c'è stato anche il tempo per i saluti istituzionali, ai quali è partecipato Claudio Roni, il figlio dell'indimenticato Luigi Roni, mediatore della manifestazione, oltre al presidente dell'Associazione Il Serchio delle Muse, Fosco Bertoli, e l'assessore Claudio Bertucci, che ha portato il saluto del sindaco T.P.M. Fosciana. A suonare le melodie di questi due mosti sacri del Novecento è il quintetto di ottoni di Fusion Brass Quintet. Nella prima parte, quella dedicata a Piazzolla, molto apprezzati i brani più celebri, come Libertango, Oblivion e Adios Nonino, mentre nella seconda parte, tra le varie melodie pucciniane eseguite, massimi apprezzamenti in particolare sono venuti per il Nessun Dorma. Prossimo appuntamento adesso il 31 di luglio a Cascio di Molazzana, ore 21, per una straordinaria riduzione scenica della cavalleria rusticana, con la partecipazione di artisti di primo livello internazionale. Come ogni venerdì, la rubrica a cura di Sergio Tarenti, l'ancora. Un fatto accaduto a Porcari. Un abitante del luogo consigliere leghista in comune, a frutto della morte di un marocchino senza tetto a Poghera, ha testimoniato che non è morto nessuno. Feccia, cioè residuo di cosa? Concime. Il bianco vivo così ha fatto sparire il nero morto, tentando di rubarne il nome, l'unica cosa che possedeva, la sua identità, puzzolente e disperata. La pelle. Ma qui è accaduto qualcosa di molto strano. Mentre il morto si portava dietro il nome, il tipo porcarese ha perso il suo. Gli ottimisti dicono che è accaduto per via della canicola, altri che non si possono rubare nomi o identità personali. Poi c'è la questione della pietas, quel sentimento di compassione che ci ha consegnato la cultura mediterranea da cui tutti veniamo e che richiama al rispetto dei caduti, tutti caduti. È in gioco l'elemento costitutivo di ogni essere umano, la sua dignità, ha sottolineato il sindaco di Porcari Fornaciari, con questo mettendo a sicuro anche quella della sua comunità. Ora però, se qualcuno ritrova il nome del porcarese lo riporti subito al proprietario che è ancora vivo. Chissà se prima o poi riesca anche lui a provare quel meraviglioso e liberatorio sentimento di vergogna che tocca a tutti nei momenti migliori. E ci fermiamo qua con la prima parte del nostro telegiornale. Qualche istante di pause e poi lo sport di Guido Casotti. Grazie. 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 Grazie a tutti.